Clepsydra Cocktail Bar è un cocktail bar restaurant che ha lo scopo di raccontare la storia della miscelazione. Lo facciamo attraverso la nostra drink list che cambia ogni quattro mesi. L'offerta drink è accompagnata da un fusion bistro, abbiamo all'interno 50 posti. L'aperitivo Clepsydra propone una formula da 18 euro che comprende tutte le 5 sfiziosità che abbiamo nel menù, compreso il drink. Quindi abbiamo un punch, abbiamo un julep, abbiamo un drog, che era il drink quello dei marinai, fino ad arrivare poi al proibizionismo. Quindi parliamo un attimino del Sazerac, perché comunque è un punto chiave della miscelazione, è stato uno dei primi cocktail inventati nella storia. 2.0, quindi rivisitato un po' la nostra maniera, perché? Perché il Sazerac è un drink molto invernale, quindi ho deciso di dargli un taglio con la citronella in modo da renderlo molto più fresco. Fino ad arrivare poi ai tempi del proibizionismo, nel 1920 a Parigi inventano il Ladimeri. E noi abbiamo fatto il nostro twist sul Ladimeri, che è il marmellata rosso sangue. Grazie. Grazie. Grazie.